musica 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 vieni 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 dai famo le cose di fretta famo le cose di fretta taglia un paio d'alberi e dammi il legno non so quanto pista sta c'entra ma è destile cazzo ok mi vio il legno a posto ok vieni no vabbè vabbè ok basta così alberi aspetta si ok andamo e io questi qua mi piacciono quindi mi pianterebbe un paio qua come vale ok ti aspetto dentro il coso della tinker ah e mi ha fatto far giro bastardo e non mi sa scordare ditte ok allora oh 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 no 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 non entrare attaccola attaccola due pone 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 allora ma come c'è c'entrava qua dentro scusa tutto pieno d'orci perché c'entrava non lo so vabbè che devo fare allora ogni volta per creare qualche pezzo bisogna usare la blank pattern ok qui noi mettiamo che ne so un lingotto e la blank pattern e ci da il pezzo che vogliamo per fare per esempio un piccone clicco qua ci serve questo qua piccoletto una road e il pezzo sopra del piccone quindi mo gioco nel blank pattern per fare un piccone che ci serve? mo aspetta lo faccio vedere allora ci serve la testa del piccone la testa del piccone e me la prendo poi ci serve un altro blank pattern che me lo faccio subito subito così direttamente allora ci serve un altro blank pattern altri due in totale perché lo faccio solo a te poi me lo faccio pure a me perchè scusa la blank pattern si consuma dopo eh si è tipo un pressino non so come ditelo poi ci serve il pezzo di congiunzione in mezzo che è questa x piccoletta ah è quello il pezzo di congiunzione poi dentro il libro sta scritta tutta sta roba quindi e poi ci serve l'asta del piccone non penso ci sia perchè l'ho cercata quando lo facevo in survival ma non c'è stava dovrebbe essere knock knife forse è questa su world battle secondo me si fanno semplici perchè io l'ho vista che si possono fare semplici nell'inventario cioè basta via due pezzi di legno per esempio mettere uno sull'altro e pesce quello si chiudere si chiudere si chiudere si chiudere no si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe no aspetta un una testa del piccone di ferro di ferro iron e si chiuderebbe si chiuderebbe e la e la e la si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe che merda ok e e la e la butto qua e butto subito i pezzi di ferro eccolo qua e il tuo piccolto è in elaboration un due tre e li butto ok Alberto già l'ha fatto ha sentito il rumore rimettilo la ok mo gli mettiamo come potenziamento un diamante fermo lo prendiamo e mo c'ha durability più 500 ce l'hai un po' di redstone no vabbè lo rimetti là dentro grazie gli mettiamo un altro diamante e non si può ok mo in teoria noi aspetta un attimo vado a pie la redstone ok e pie tanta redstone però non trovo piene tipo 20 ora noi il malch il malch no e ah beh nella seconda cassa a destra ci dovrebbe essere anche il libro vabbè e ha preso la redstone e aggiungila al piccone allora metto questa qua oh eccolo qua 1 su 50 1 e vai vai rimettila 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 tutta così di qua non è che non mi consumi i 20 guarda tu che già già fatto il degrado lui già mi ha spostato tutto lo smestamento e e allora mmm e e che dovevo prendere al beh che cazzo mi so io e dovevo prendere stavamo a ti dovevo prendere qualcosa che cazzo so stessa fa eh il libro il libro il libro il libro il libro il libro fermo 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 ti faccio il piccone che si autoripara come si fa? eh se trovo il libro Sì, sì, eccolo Sì, ok Eh, ok, ok, ok Ma sai che la versione della moda non funziona? No, ma qualche O forse sì, boh Oh, eccolo qua, il auto repair Quanto è bello 825 usi soli però c'è Eh Come si fa la Cobblestone Quella però col coso Col Mossi si chiama, mi sa Mossi Cioè i capelli mossi Che basta Cioè bisogna trovare Cioè bisogna creare la cobblestone con Questa dentro Quella si trova, non si crea No, 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 si può creare col Va più al grano Il grano Sì, serve il grano Sì, eccola Una Due Tre Eh, ci ha preso dei grano Eh, me ne servono altri Qua Eh Cinque pezzi Appia cinque secchiali d'acqua Un Due Tre Quattro Cinque Ok Sentite come cazzo Ah, mi sa che è buono Senti Fa C Zaa C Zaa Eh, mi dai il grano Vabbè Ma che cazzo Ok Eh, mi sa che è un po' troppo Fa quattro due pezzi Vabbè Ok 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 Cinque Mettiamo I cinque secchiali Ok, allora Uno Due Tre Apposta E ecco qua l'ultimo Ok Mo Sta Cosa qua che ho fatto La prendiamo E Olè Ball Of Moss Perfetto Al beh il piccone Eh, arrivo Una cosa Non è che si auto Cioè tu lo usi Senza romperlo E poi lui piano piano si autoripara Ok Vabbè Quindi a un certo punto Quando sto tipo a Trenta usi Ne fermo Eh, non è indistruttibile Ok Allora Metti il piccone là dentro L'hai messo nella parte sbagliata No Ok Olè Vai prenditolo Che cazzo di schifo è? Eh È un schifo però È iperforte Quello l'uomo che c'è in mano È un piccone De Non so se si può dire Sì, sì Se può dire De Cristo Va bene Piccone di Cristo Prego Andiamo Piccone di Cristo Grazie Vale Prego Ok Ehm Poi riposiamo questo qua E ora ci dobbiamo Lì mettere un po' Sporchetto Vabbè Allora Il diamantino Riposo Ok Oh no 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 Sto rumore Sto rumore non mi piace È un rumore di un ghast pazzerello Due ghast pazzerelli Porca vacca Sento i rumori Quattro manovisti L'acqua Ma fa la cosa Ma fa la cosa Come una età La cosa Che cazzo sta succedendo Sei morto Ma che cazzo C'è il piccone di Cristo Vattene la riviglia No ma io Io ammazzo qualcuno Non può essere È impossibile Perché io Quando entro nel nether Mi laggave un po' Come quando rinasco E allora io Stavo tanto tranquillo Con sti cazzo di casse Che non mi avevano visto Manco per cazzo E invece Tu 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 Tipo mitragliatrice Mi hanno sparato Eh vabbè Vattene via la roba Capito Ancora non posso uscire da casa Perché ancora lagga Sta merda Buffa Perché lagga Lagga bestia Perché Non sto a scherzare Perché 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 è un server Che tengo io Non è un dedicato Mi sembra logico È un server Che ho io Sul mio computer Non è un server dedicato Bene È logico Coglione Coglione No vabbè Cioè tu lo vedi Lo Cioè io sto registrando Lo vedono Che ho sbagliato Allora Un bucket Ma pure spaccato il portale Speriamo che spavano Nella stessa posta Oddio Team E un adex Perfetto Siamo spawnati In un altro posto Un altro posto ancora Sì Ah no Siamo solo Siamo solo Sopra il portale Quello vecchio Ancora sopra Ma perché spugniamo Sempre Ah e comunque Con quel picconella Che ti ho fatto Puoi anche spaccare Lo scendiamo Scusate regà Mi devo mettere un attimo Un creativo Hai capito? Sì ma mi devo mettere un attimo Un creativo Sì sì Ci sto per buttamene sotto Senza morire E mename cazzo Mename Sta merda Tanto mo Non lagga Poi pure mename Voglio vedere che cazzo fai Ecco adesso mi rimetto in creative E gli faccio E in Utili dei Come cazzo si dice? Vabbè In survival gli faccio il culo Spara spara Te sto rimando a tutte le merda Spara Oddio Oddio Piato fuoco Porca troia Questo è un piccolo errorino Un Aia Non morì Porca troia Ma posso morire Perché è pio fuoco Pio fuoco Mi sento un cazzo di pulcino Pio Tin Ok Ti cosa vedi che sto facendo? Cosa vedi che faccio? Che provi a aprire la porta Come un Demente E poi non ci passi Esatto Te prego Passa Quello vedo Te prego Perché? Perché mi fai celeste? Ma è aperta la porta È aperta la porta Eh ma io ci passo Oh Oh Fermo Oddio Ah Do so È notte Non è più giorno Aio Oddio Che mondo di merda Che mondo di merda Oddio Oddio Alba Eh Eh Sei ancora vivo? Eh Per ora si Un buon record Scusate Scusate Fermo E' molto tranquillo No E sti cast Si muovono E sti cast Sembra che stai Vedi sti cast Sti cast Si muovono Senza Picchiarmi Fanno proprio Fluttuano Amabilmente Senza rompermi le palle Cinque secondi dopo I colpi ammitraide E mi ritrovo morto Ci credo Eh Eh Vabbè Sei ancora vivo? Si Ti ho detto che ho usato Un attimo Per non crevare È ancora Un tela di tolta Oddio Si è tolta Quanto è veloce Sto piccone E' te l'ho detto Mi sembra S'incredito No Veramente la credit Per meno veloce Di quel piccolo Tecnicamente Però Davvero Oh merda Perché merda Boh Vedi Viva Oh ma sto piccone Non finisce mai Sta ancora 823 823 823 822 Eh perché si ripara 822 Mo lo lascia riposo Un attimo Vedi che mi ritrova Mi ritorna Tipo 803 Oddio Allora Cazzo Oh 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 Gasto muta Ammazza Spalate Ok Non salire Brutta merda C'hai paura C'hai paura Guarda come Oh cazzo Ho piato fuoco Di nuovo? No 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 Piccone aiutami tu Ok sono in un bunker Grazie Allora Buono gasto Mo dobbiamo fare uno Steam 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 Consumer Che si fa con un Consumer Oddio No Basta Non è possibile Pensavo che era Molto più semplice Fare cosa? Fare un Uno steam Consumer Come cazzo si chiama Che cazzo sei? Che devi fare Con quel affare? Eh per fare Le cose che fanno le cose Eh? Per fare che? Le cose che fanno le cose Vale Io Con tutta la buonontà Devo ancora imparare Lo nostro voto Ma Eh per fare Lo steam Consumer Per mettere Le energie Dentro Item Tesseract Ok Grazie Prego Adesso Cerco un po' De verruche Uh Uno buono Blade Spawner Cattivi Blade Quindi Iron Blade Tendevo far Io Il mio Spawner E' più bello Merde Di che? Di che erbe? Te vuoi lo Spawner Si Spawner Di che? Di Blades Sai forse Dicendo Che non abbiamo Spawner Di Blades Si Abbiamo Spawner Ma che cazzo Io Si Tu Sei un coglione No Tu Sei un coglione Oh Di che? Di che? Di che? Di che? Grazie a tutti.